Ciao ragazze, oggi vi porto con me a fare un giretto, quindi oggi video vlog in compagnia di una mia amica Marcella che sto aspettando. In pratica tutto è partito da lei perché è stata lei a segnalarmi una promozione sui nuovi rossetti della Pupa, quelli I am, I am lipstick Pupa. In pratica sul loro sito, adesso vi faccio vedere, c'è la possibilità di iscriversi e ricevere uno sconto e quindi di pagare i rossetti solo 5 euro anziché 12,90, quindi 13 euro circa. Vi faccio già una piccola review su questi rossetti. Io ne ho preso già uno che è il numero 403 e è questo qui che indosso, che è praticamente un nude. Però vi giuro, io ne ho provati tantissimi, ce ne sono ben 40. Però sul sito c'è anche una cosa molto carina. C'è una pagina che praticamente vi aiuta a scegliere il rossetto adatto a voi e basta che voi mettete il vostro colore di capelli, il colore incarnato, la dimensione delle labbra e insomma vi danno, tra tutti i 40 rossetti, vi aiutano un po' a scegliere il vostro colore, il colore più adatto a voi. Comunque adesso vi faccio vedere un po' sul sito cosa c'è, quindi tutto quello di cui vi ho parlato. Ma come vi ho detto volevo farvi una piccola review molto veloce. In pratica ho visto un po' le recensioni anche delle altre youtubers, delle altre ragazze che l'hanno acquistato e tutte hanno una buonissima opinione di questo rossetto. Io invece non sono molto convinta, nel senso che ha dei lati positivi e dei lati negativi. Quelli positivi è che è molto veloce e comodo alla stesura ed è anche molto comodo da tenere perché è molto morbido sulle labbra. Il colore dura anche se si mangia magari qualcosa, se si beve un aperitivo, però c'è una cosa che non mi piace assolutamente e che è quella che si secca un pochino e quindi va nelle pieghe oppure nella riga interna del labbro inferiore che è davvero una cosa orrenda. Non l'ho provato ancora con un primer, così come mi consigliava la mia amica, però insomma vediamo, secondo me per il costo che ha 13 euro mi ha lasciato un po' così perplessa. invece diciamo che per 5 euro, così come ora in offerta, penso che sia più un prezzo giusto, più vicino al valore del rossetto. Comunque, ora vediamo un po' il sito della Pupa. Ed ecco qui, I'm Lipstick. Questa parte gialla, ragazze, è quella dedicata allo sconto, quindi dobbiamo cliccare qui per scaricare il nostro coupon. Invece, ragazze, nella parte rosa abbiamo il Trova il tuo I am, quindi quello che vi dicevo ci aiuta a trovare il nostro colore preferito, è molto carino da fare, quindi se avete un po' di tempo così da perdere, potete scoprire qui tutti i 40 colori e trovare anche, farvi consigliare il vostro colore più adatto. Comunque, per quanto riguarda lo sconto, abbiamo detto nella parte gialla, guardate, a soli 5 euro, andiamo qui su Scarica subito il coupon. Ci porta a questa pagina, è molto semplice e veloce, dobbiamo compilare con il nome, cognome, email, sesso e data di nascita e poi in base alla località e alla provincia ci dà una lista di negozi dove appunto è possibile acquistare il rossetto e noi dobbiamo selezionare, dobbiamo scegliere uno di questi negozi, quindi poi il coupon sarà valido solo per il negozio che noi abbiamo selezionato. Una volta accettate le condizioni, premiamo su Ricevi il coupon e così ci verrà inviato subito il coupon nella nostra email. Clicchiamo qui per scaricarlo e ci apparirà questa pagina dove appunto noi dobbiamo stampare il coupon. Ed ecco qui il nostro coupon pronto per essere utilizzato. Magari nell'attesa torniamo velocemente sul sito per scoprire il mio I.M. Così arriverò in profumeria anzi da acqua e sapone perché noi andiamo da acqua e sapone un po' anche preparata. Quindi i tuoi capelli sono castano chiaro, la tua pelle è chiara, le tue labbra sono voluminose ed ecco i rossetti che Pupa mi consiglia. Quattro nude, tre aranciati, altri tre rosa fucsia. Poi ragazzi, volevo segnalarvi che da acqua e sapone c'è in omaggio questa bella pochettina che vedete è tutta ricoperta di pizzo e si può scegliere tra questo sfondo color crema e un altro sfondo tutto argentato e questa la potete avere con l'acquisto di alcuni pacchi di assorbenti Lines e non mi ricordo esattamente con quanti pacchi, comunque sia ve lo scriverò giù nell'info box, è davvero molto carina e soprattutto vedo che ha anche parecchio cappiano. Bene, adesso inizio a scendere perché come oraro ci siamo, quindi sta arrivando Marzina. Eccoci ragazzi in compagnia di Marcella. Ciao! Ciao Marci! Poi sono uscita in queste condizioni, questi sono i rossetti, 206 e 207. Secondo noi questi sono i colori più belli, però davvero non perché ne abbiamo scelti, però ne abbiamo scelti apposta. Ecco perché ne abbiamo provati tutti, quindi. Eh, infatti, quindi sono stati testati tutti e 40. La testimonianza delle prove. E' lo stringo, i rossetti. Questo è il mio, questo è il suo. Chiariamo le cose! Dobbiamo indossarli per farvi vedere. Ma adesso? E io? Ragazze, questi sono i rossetti indossati e niente, ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!